Ci sono significativi percorsi di miglioramento che devono essere garantiti. È un cauto ottimismo quello manifestato dall'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi sul numero unico di emergenza. I dati indicano che ci sono dei miglioramenti sui tempi di attesa, ma esistono delle problematiche relative alle chiamate improprie. Queste ed altre informazioni sono state divulgate oggi in occasione dell'Open Day del NUE con oltre 200 tra cittadini e studenti delle scuole superiori che hanno potuto visitare il centro regionale della protezione civile di Palmanova. Il tempo d'attesa del 2017 era di 6 secondi e nel 2018 è diventato di 3, quindi anche questo è un risultato importante. Ci sono 41 secondi nel processo della chiamata, quindi che codifica la chiamata, se è una chiamata di emergenza sanitaria o d'altro. Più o meno si dividono in circa due grandi categorie e all'interno di queste però la metà delle chiamate è considerata una chiamata impropria, quindi non è una chiamata di emergenza. I numeri dunque parlano chiaro, il 30% delle 75.334 false chiamate è stato inviato per errore o per gioco da bambini entrati in possesso dei cellulari dei loro genitori. Se poi addirittura andiamo dentro questo tipo di fenomeno delle chiamate filtrate, quindi che non arrivano ai punti di emergenza che sono o sanitarie o d'altro, c'è un dato preoccupante che circa la metà di queste chiamate sono chiamate che non c'entrano niente e addirittura sono motivo di scherzo, dispetto, che è una delle cose che preoccupa. E quindi penso che averlo detto nei confronti delle giovani generazioni ci aiuta perché quando parlano le giovani generazioni di solito noi adulti ascoltiamo di più.